158 Lelia prega per me per tutto e per tutti prima lettera da clinica dopo l'operazione notizie sulla salute aspetta il miracolo per intercessione di Marcellino Champagnat fra Raffaele mio caro giovedì 30 marzo 1950 ore 11 sei contento che ti scrivo personalmente? Roberto mi ha alzato il tavolo che conosci inclinato al punto giusto e così comodamente eccomi a te lunedì ti ha scritto Roberto io continuo la cronaca da martedì grande aspettativa per la mattinata del 28 perché dovevo camminare un po' con una vestaglia nuova che zia Gilda si è affrettata a regalarmi nel pomeriggio di lunedì invece la ferita ha cominciato a inumidirsi e non mi sono potuto muovere la febbre non mi ha mai lasciata salendo fino a 38 la sera il mattino il medico mi ha medicata il siero si è aperto un varco la ferita si è riaperta il liquido si è dovuto raccogliere nella bacinella mi hanno messo un drenaggio e così bene impacchettata debbo rimanere ancora a letto il medico dice che è stato un gran bene perché non sapevano a che cosa attribuire la febbre che da ieri è completamente scomparsa stamattina altra medicazione ma il medico è meravigliato del miglioramento perché la ferita sta molto meglio e anche il liquido emesso è diminuito frebbre niente deo grazias solamente la data del ritorno a casa si è allontanata prega per me per tutto e per tutti papà ripreso l'ufficio e sta meglio molto più sereno leo s'alterna a roberto nelle nottate ma probabilmente da stasera non farò rimanere più nessuno perché qui l'assistenza è buona ed io adesso senza febbre riposo meglio francesco continua a fare massaglia con sia gilda teresa è un po raffreddata e da ieri non viene sia gilda ha lasciato partire zio virgilio solo per non lasciarmi viene sempre veramente insostituibile adesso sto aspettando il direttore di roberto che oggi viene a roma e si porta via il mio bravo il mio più bravo infermiere sia sempre ringraziato il signore per quello che ci dà io faccio spesso la santa comunione ed è un gran conforto aspetto da marcellino il miracolo ma anche il medico mi dice che ci vuole tanta fede e forse ne ho solo un desiderio prega tu ho scritto tutto sei contento o sei che ringrazia sempre il revendo padre priore e padre bernardino a te tutte le più sante benedizioni da mamma 158 lelia prega per me per tutto e per tutti prima lettera da clinica dopo l'operazione notizie sulla salute aspetta il miracolo per intercessione di marcellino champagne fra raffaele mio caro giovedì 30 marzo 1950 ore 11 sei contento che ti scrivo personalmente roberto mi ha alzato il tavolo che conosci inclinato al punto giusto e così comodamente eccomi a te lunedì ti ha scritto roberto io continuo la cronaca da martedì grande aspettativa per la mattinata del 28 perché dovevo camminare un po con una vestaglia nuova che sia gilda si è affrettata a regalarmi nel pomeriggio di lunedì invece la ferita ha cominciato a inumidirsi e non mi sono potuto muovere la febbre non mi ha mai lasciata salendo fino a 38 la sera ieri mattina il medico mi ha medicata il siero si è aperto un varco la ferita si è riaperta il liquido si è dovuto raccogliere nella bacinella mi hanno messo un drenaggio e così bene impacchettata debbo rimanere ancora a letto il medico dice che è stato un gran bene perché non sapevano a che cosa attribuire la febbre che da ieri è completamente scomparsa stamattina altra medicazione ma il medico è meravigliato del miglioramento perché la ferita sta molto meglio e anche il liquido emesso è diminuito frebbre niente deo grazias solamente la data del ritorno a casa si è allontanata prega per me per tutto e per tutti papà ripreso l'ufficio e sta meglio molto più sereno leo s'alterna a roberto nelle nottate ma probabilmente da stasera non farò rimanere più nessuno perché qui l'assistenza è buona ed io adesso senza febbre riposo meglio francesco continua a fare la massaia con sia gilda teresa è un po raffreddata e da ieri non viene sia gilda lasciato partire zio virgilio solo per non lasciarmi viene sempre veramente insostituibile adesso sto aspettando il direttore di roberto che oggi viene a roma e si porta via il mio bravo il mio più bravo infermiere sia sempre ringraziato il signore per quello che ci dà io faccio spesso la santa comunione ed è un gran conforto aspetto da marcellino il miracolo ma anche il medico mi dice che ci vuole tanta fede e forse ne ha solo un desiderio prega tu ho scritto tutto sei contento o sei che ringrazia sempre il revendo padre priore e padre bernardino a te tutte le più sante benedizioni da mamma